Gentili telespettatori buona giornata. Sondaggio quorum Utrend per Sky TG24 di oggi lunedì 11 dicembre 2023. I giudizi sul governo Meloni. Vediamo in rosso i giudizi negativi e in blu i giudizi positivi. Il giudizio negativo su Meloni scende al 54% mentre vediamo che era partito intorno al 45-46% il giudizio negativo oggi al 54% mentre il giudizio positivo risale ormai dal dal primo di novembre che è in risalita oggi è al 39% era partito un giudizio positivo intorno al 44% mentre quelli che non sanno diminuiscono dal 11% dell'inizio oggi sono al 7%. Grazie a tutti arrivederci a presto